La complicata realizzazione e consegna dell'ESA e soluzioni abitative di emergenza è stato oggetto di una giornata di studio. Alla Scuola per Geometri Bramante di Macerata, un'occasione per analizzare le criticità e soprattutto l'importanza di questi moduli abitativi. Queste sono delle case, sono delle case complete e sono delle case che loro percepiscono come un tentativo di ridare quella familiarità, di riprendere quel percorso di familiarità che il terremoto in qualche modo ha disgregato. Quindi anche per gli studenti capire che la coesione sociale, l'interesse verso le problematiche sociali è comunque una cosa che va trattata quando c'è un effetto sismico. Soprattutto perché la ricostruzione è una macchina molto lenta, quindi bisogna dare un segnale a queste persone e a tutto il territorio che c'è una ripresa, che c'è un tentativo di riprendere il controllo del territorio. Come abbiamo visto nei numerosi servizi che ci ha visto coinvolti anche nei cantieri, due sono le criticità chiave, la conformazione e vastità dei territori e i tempi. C'è anche la presenza di linee servizi aerei come ad esempio elettrodotti oppure linee interrate che comunque al momento che andiamo a lavorare nel cantiere troviamo e che dobbiamo o spostare o comunque interrompere. Queste sono le prime difficoltà che troviamo subito nel cantiere. Dopodiché le difficoltà che troviamo sono quelle che comunque abbiamo dei tempi molto stretti perché dobbiamo in qualche maniera mandare la gente nelle case il prima possibile. Tra i relatori presente anche il sindaco di Muccia Mario Baroni che ha portato la sua esperienza in prima linea con la sua realtà che per una richiesta di 164 SAE ne ha ricevute ad oggi soltanto 59. Anche io sono giovane perciò mi fa anche piacere stare insieme ai giovani che fanno la stessa, io non ho mai fatto la professione però chiaramente fa anche piacere trasmettere quelle che sono state le impressioni e le sensazioni delle situazioni che spero non avvenga più perché sono sensazioni veramente tristi e che segnano la vita di tutte le persone. Io dico sempre che in questo momento si sentono ancora di più i danni del terremoto, non solo i danni materiali sulle abitazioni ma i danni morali che tutti i cittadini subiscono.